Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, gli studi Roberto Di Giacomo. Traffico al momento regolare sulla rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 è prevista neve tra il bivio A1 variante di Valico e Aglio, e tra Sasto Marconi e Barberino di Mugello. In A12 segnaliamo vento forte tra Pisa Centro e allacciamento statale 1 Aurelia. Fino all'8 dicembre è stato chiuso per lavori al chilometro 0 della SP 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svingolo di via Quagliadina di Vorno, per frana al chilometro 79 865 in Filippili. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Morsi in Toscana Info è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!